Secondo un'indagine di Coldiretti X, 6 persone su 10 andranno in vacanza a Ferragosto, ma perché si continua a scegliere comunque sempre il mare? Diciamo che in Abruzzo confermiamo il trend di crescita nazionale di un più 14% di vacanze in agiturismo. Il mare per noi che siamo in Abruzzo è una conseguenza quasi diretta in quanto tra campagna, collina, montagna e mare la distanza è talmente breve che riescono con una sola vacanza a godere di tutte queste bellezze naturali. Sicuramente un turismo non di massa ma un turismo un po' più consapevole, un turismo che riscopre ad esempio i percorsi religiosi, le vie francescane, la via di San Tommaso, non disdegnando le tratture, tutti quanti i borghi dell'entroterra. La costa ne fa da pradone perché il nostro mare è sicuramente bellissimo, la nostra costa idem, la zona collinare con i suoi olivi, con i suoi vigneti e le aziende agricole, soprattutto agricole e agituristiche che offrono un turismo di natura esperienziale. I nostri viaggiatori, i nostri turisti ci chiedono innanzitutto prima di vedere le camere, prima di andare a degustare i nostri prodotti, ci chiedono di vedere le nostre aziende agricole, cioè i nostri animali, il nostro orto, il nostro punto vendita. Quindi poi passano a goderci una vacanza nell'ottica del relax e del turismo rurale. L'Abruzzo continua ad essere una regione dove c'è tanti solisti, come una bella orchestra, dove c'è tanti ottimi musicisti, oppure in tema un bel piatto dove c'è tanti ingredienti positivi, buoni, autentici e veri. Quindi mancherebbe un pochettino la mano di uno chef, cioè organizzare il tutto in un'ottica di agriturismo che si racchiuda in un brand che è quello del brand Abruzzo.